Dopo una lunga attesa questa sera finalmente partiamo ufficialmente al Mamma Mia Beach ragazzi è proprio il caso di dire mamma mia perché c'è tantissima gente non solo in pista ma anche lì ad aspettare una serata memorabile la grande inaugurazione dove sono presenti le telecamere di mini clubbing ma anche un grandissimo ospite parliamo del DJ producer italiano, ce ne vantiamo anche a livello internazionale lui è Ru DJ un grande staff, tantissima bella gente non vi resta che guardare le immagini e scoprire chi quest'anno popolerà il Mamma Mia Beach il Mamma Mia Beach è imballato ci sono anche un sacco di persone che aspettano è una grande inaugurazione si sa si vede il più grande desiderio per l'estate 2014 voglio trovare l'amore e perdere la testa conoscere un bell'opero americano l'amore, i soldi successo, il lavoro, le amiche magari l'amore lo cerchi? no di chi è che parlavi? fammi il no non si può dire non si può dire, come è fatto? bello, bellissimo bello, bellissimo l'amore già ce l'ho l'amore ce l'ha, il sesso? anche e ancora? sì da quanto tempo state assieme? otto anni mica tanto allora ma tu sei venuto qua a tacchinare voglio dire ragazzi è un brutto elemento ma vi dipendo io aglio tre un Emo Mamma Mia aglio tre un Emo Mamma Mia aglio tre Mamma Mia un desiderio, uno solo per quest'estate divertirmi alla grande in che senso? con le amiche? sì solo buciarda vabbè dipende chi capita ma fantastico lo so chi capita capita se vi volete rivedere belli e abbronzati qui con noi c'è Margherita fa le foto ufficiali al Mamma Mia sono tutti belli davvero qui? certo allora ragazzi siete pronti a far vedere com'è il sesso forte con lo maschile? lui si becca una stasera alla fine come fai a stare insieme a questi ragazzi che hanno l'ormone impazzito? eh io sono già fidanzata e sono tutti i miei amici sbaglio o tu stavi limonando da queste parti? stavo limonando il mio ragazzo è dall'altra parte benissimo lei stava cercando di limonare con un altro ma non è vero non è vero visto che studiate a Roma e studiate belle arte la prima cosa che andreste a restaurare in Italia Italia Maria Italia la Sicilia vieni qua amica non andare via prendiamo l'oro prendiamo l'oro ragazzi ciao ciao basta qual è il vostro più grande desiderio per questa estate? con questo A mi sembra di capire che la cosa ha a che fare con il sesso ma vuole sesso e te proprio non si batte i chiopi d'amore solo amore niente sesso le telecamere di miniclubbing un saluto ciao e tu staresti con lui l'hai indicato con un'aria da quanto tempo stai insieme a lui? due anni dove lo trovo un altro così? che dichiarazione d'amore falla anche tu a lei no qual è? no io non sono bravo a fare queste cose ci chiedevamo sta con lei? stai con lei? o tutti quanti? qual è il desiderio dell'uomo per questa estate 2014? scopare come un nero cazzo lei è proprio stronza mi dice di no vieni qua dai qual è il tuo più grande desiderio di questa estate? di passare con la mia famiglia e basta di passarla con la mia famiglia ah di passarla con la tua famiglia avevo capito di baciarla sembrava un incesto tu come la conquisti una donna? quella è la tua donna vai provaci tu viene e mi cerca pure lei viene e mi... col sigaro con la telecamera dov'è? chi delle due ha avuto una delusione d'amore? lei sarò un uomo ma certe cose le vedo qual è il vostro più grande desiderio per la estate 2014 abbandonati questi due furfanti? farli sparire lui è Andrea Ricciardi un uomo uno degli organizzatori del Mamma Mia Bici da te volevo una frase un proverbio tipicamente siculo io di solito quando devo tradurre l'inglese alla fine ce la faccio ma questo veramente però lo facciamo tradurre a voi qui dal Mamma Mia Bici delle camere di miniclubbing la grande inaugurazione è stato bellissimo essere questa sera per la grande inaugurazione del Mamma Mia Bici ma non finisce qui anzi siamo solamente all'inizio perché miniclubbing si trasforma e diventa We Love TV per tutta l'estate guarda qua Mini Clubbing TV You are the main actor